Musica 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 Eccola la prima serie con Matassino, Vescovi, Fai, Marsigliani, Brunati, Ibiarini, Tosarini e Rossi E intanto vedi, dicella, a 1,70m per quanto riguarda la gara del Salto in alto con Orlandi, Cinca, Lonchi, Persano, Nicito, Fabio, Bubiani, Facchineri, Ruschi, Ronchetti, Rossi, Shai, Pellettini, Trippia, Trentini, Allegretti con Matti, Pozzi, Presenti, Rodale, Corti, Donis e Diop da con un'unica numerosa della gara del Salto in alto a Vieni Musica 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 400m finali in questa prima serie del Pino 800m allieve Musica 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 e infatti arrivano qui al podio le atlete che hanno careggiato nel salto con l'asta e con tutto della loro premiazione Vai Susi! Vai Susi! Brava Susi! Siamo al traguardo, è che sta a prima serie Marciani va a chiudere la pista della rosa in capontura l'utigiana e lei che più è dal comando a questa sprint del 3 Grazie a tutti! Grazie a tutti!